Grazie a tutti. Buongiorno. 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 How much is this? Twenty. Twenty? Ok. Ok. I'll take it. Vuoi una scatola, box? Si. Ok. Oh, I'm from D.C. and I'm living here and I didn't get to celebrate Obama's victory, so this is my way of celebrating because I wasn't at the White House last night to celebrate. Thank you. Thank you. Grazie mille. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. That's it. There's no. Sono arrivate numerose email riguardo la statuina d'Obama, cioè mi chiedevano se era pronta per essere spedita lì in America. Li teniamo già pronti perché già nell'area si sapeva. Si sapeva che vinceva lui. Grazie.